Si rivolgono a me, cominciano anche a farmi delle domande, associano parole e ripeto, li sto educando a parlare in inglese e in italiano, quindi è bellissimo perché c'è una scoperta della lingua, anche per me di nuovo. Qual è la cosa che ti sorprende di più di loro? Sicuramente la curiosità che hanno nei confronti della vita e di tutto quello che accade, quindi sono due perfetti osservatori e questo mi riempie di gioia perché la curiosità è la prima caratteristica dei bambini che poi non si deve perdere neanche quando si diventa adulti e quindi la sto riscoprendo anch'io, i dettagli, le piccole cose. Qual è invece la cosa che hai scoperto di te grazie a loro? Ho scoperto che sono tosta, che sono una mamma molto presente, molto di più di quello che magari... Grazie. 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 Grazie.